È una grande responsabilità perché praticamente si va a rappresentare un'area che per molto tempo forse è stata abbandonata troppo, quindi la responsabilità già è grande di sua e lo è ancora di più perché si rappresenta un'area che è l'altare vestito. Ci sono dei punti molto importanti, alcuni riguardano fortemente quest'area e anche questo forse il motivo per cui hai aderito così facilmente a questo movimento civico. Sì, sono pochi punti importanti come distorsio ideologico, come la viabilità, la sanità, quindi sono quelle cose che sono mancate a questa regione per cui questa regione ha frenato per troppo tempo. Sono una persona come tante, una persona umile che lavora per il territorio, una persona semplice, non chiediamo grandi cose, semplicemente di perfezionare quei campi, quelle cose che per molto tempo ci hanno messo fuori gioco. La candidatura di Marco D'Andrea è chiave perché per noi naturalmente tutto quello che abbiamo preso dagli incontri che abbiamo fatto deve ritornare ai cittadini, quindi siccome nella provincia di Pescara l'area vestina è una di quelle più importanti sui problemi ideologici e sui danni che ci sono stati, è stata una delle più colpite, dobbiamo dare una risposta con una candidatura forte in quest'area che vivesse la possibilità di potersi giocare la partita della regione. E quindi abbiamo risposto al territorio, come abbiamo visto stasera, che ci ha per l'ennesima volta premiato perché insomma c'era tantissima gente fuori per questo incontro, con la candidatura di Marco perché secondo noi è un sindaco al secondo mandato che ha avuto tanto successo anche alla seconda elezione, quindi era giusto provare a fare questo rinnovamento con la sua candidatura.